Cos'è una persona nel digitale? Ognuno di noi è la sua digital reputation, quella rappresentazione nel digitale somma di tutti i contenuti che ci riguardano. Ma che ruolo gioca nei processi di recruitment? Lo abbiamo chiesto il recruiter. Attraverso ricerca desk, survey e incontri-intervista è emerso come l'immagine digitale si ha per loro una possibilità di valutare come una persona si presenta. Infatti, gli studi condotti da Diadeco Group dimostrano come il 69% dei recruti entri in contatto con i candidati per la prima volta nel digitale. Si chiama digital screening. Ma come funziona? Di fatto è la selezione dei candidati sulla base della loro immagine digitale. Può essere uno strumento che permette di raggiungere anche i professionisti che non stanno cercando lavoro attivamente, oppure un rischio se questa selezione non è fatta correttamente. Oggi il recruiting è più complesso di quanto fosse in passato. Ciò che è digitale non è necessariamente reale. Infatti, la trasformazione digitale ha aggiunto un layer sul tradizionale processo di selezione, che come emerso dalle interviste, aiuta le aziende a soddisfare i loro bisogni sulla base delle abitudini digitali dei candidati. Apri quindi gli occhi agli infiniti inganni delle rappresentazioni digitali. Scarica il report e scopri di più sulla nostra ricerca.